Cancelli serrati, padiglioni, requisiti. La Fiera d'Elevante di Bari per ora cambia destinazione d'uso e diventa un ospedale Covid. Capienza da 160 a 190 posti letto di terapia intensiva in 15.000 metri quadrati. I lavori sono partiti, gli ingegneri e le maestranze sono sul posto. Tempo stimato per la consegna 45 giorni. Questa struttura consentirà la riattivazione anche delle altre attività di assistenza sanitaria che comunque continuano durante l'emergenza Covid. La prefetta di Bari, Antonella Bellomo, ha disposto la requisizione d'uso temporanea di alcuni padiglioni in favore della protezione civile regionale del Policlinico di Bari. Provvedimento valido fino alla fine dell'emergenza sanitaria a gennaio e per l'ulteriore eventuale periodo di proroga. Valore dell'intervento 8 milioni e mezzo di euro. Altri due grandi ospedali da campo sono previsti a Lecce e a Foggia in base alla delibera della Regione Puglia che ha modificato l'organizzazione della rete ospedaliera per aumentare la capacità di gestione dei picchi della pandemia e decongestionare gli ospedali in forte sofferenza.